Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Un anonimo ha trasmesso il seguente dialogo, scarno ma efficace, tra un musulmano e un cristiano. Diceva un musulmano, Dio per noi è l'altissimo e uno, come potrebbe avere un figlio? Rispose un cristiano, Dio per noi è amore, come potrebbe essere solo? Celebriamo la solennità della Santissima Trinità, che non è la festa delle elucubrazioni teologiche, ma la celebrazione del mistero intimo di Dio che ci ha rivelato Gesù. Dio in sé non è l'essere solitario, perfettissimo e magari un po' egocentrico, ma è unità semplice, comunione perfetta di tre persone, padre, figlio e Spirito Santo. Per quanto la Trinità sia un mistero che ci supera e nel quale siamo chiamati ad immergerci sempre più, un barlume di luce per cogliere qualcosa ci può venire dalla debole analogia dell'amore umano, che comporta sempre distinzione e comunione di persone. Eric Fromm, nel libro L'Arte di amare, osserva che la natura dell'amore vero è paradossale. Esso unisce senza dissolvere l'alterità. Due diventano uno senza cessare di essere due. Chiaramente la natura dell'amore che unisce senza dissolvere la distinzione si manifesta in modo assoluto nella Trinità, dove le persone divine sono l'una nell'altra, una unità profondissima, meravigliosa, che è comunione piena d'amore. Un'icona sulla terra della Santissima Trinità, ovviamente limitata e parziale, è la famiglia, dove si intrecciano varie relazioni, paterna, materna, filiale. Ecco, quando vedi una famiglia che si ama, cosa viene spontaneo a dire? Che belli, come si amano, sembrano una cosa sola. Ora, alla luce di questa solennità possiamo cogliere qualche spunto decisivo per la nostra vita. Gesù nel Vangelo dice che lo spirito della verità ci guiderà gradualmente a tutta la verità e ci annuncerà le cose future. Lo Spirito Santo mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà, e quel che è mio non è mio, ma del Padre. Cioè, per dirlo in modo semplice, in Dio non esiste proprietà privata. Tutto è dono, tutto è condiviso. In Dio vi è un continuo e gioioso donarsi, accogliere, corrispondere. Un continuo scambio d'amore potremmo pensare al sole. Al suo interno vi sono continue esplosioni che generano calore, luce. Ecco, così è Dio. Una continua esplosione d'amore e questo traboccare all'esterno dell'amore, nello spirito, permette all'universo di esistere, e a noi di sussistere, e a chi lo accoglie di santificarsi. Perché tutto questo è importante per noi, perché contemplando la Trinità iniziamo a capire qualcosa in più su di noi e su ciò che siamo chiamati a vivere. Noi siamo creati a immagine di Dio, di questo Dio che è comunione. Benedetto XVI ha detto, la prova più forte che siamo fatti a immagine della Trinità è questa, solo l'amore ci rende felici. Sfido a pensare il contrario. Quando si sta bene? Quando si è presi a pesci in faccia? Quando si è isolati? Disprezzati? Non considerati? O quando ci si sente voluti bene, valorizzati, curati? E ancora, quando è che si è davvero felici? Quando si vive tipo cane con l'osso, dall'insegna dell'egoismo, guardinghi, avari? O quando si vuol bene, ci si dona, si rende felice qualcun altro? Dunque la prima cosa che ci ricorda la Trinità è proprio questa, che non possiamo essere pienamente noi stessi, né veramente felici da soli, isolandoci. Ora entriamo ancora più dentro questo mistero bellissimo con qualche briciolina teologica. In teologia le tre persone vengono definite relazioni sussistenti. Tranquilli, è semplice, Dio è profondamente uno, ma in lui vi sono continue relazioni d'amore. Ogni persona, nella Santissima Trinità, è tale in quanto è in relazione con l'altra, anzi è tale perché è relazione con l'altra. Dunque il padre è in quanto padre, il suo essere padre si identifica con il fatto che genera, che dà vita, il figlio è in quanto figlio, il suo essere persona si identifica con il ricevere tutto e ridare tutto al padre. Perché è importante tutto questo? Perché ci ricorda che noi possiamo diventare pienamente noi stessi e sbocciare in tutta la bellezza che Dio ha seminato in noi soltanto vivendo connessi a Lui e realizzando la nostra vocazione ad amare. Innanzitutto diventiamo noi nella misura in cui ci lasciamo generare dal padre, in cui ci lasciamo amare da Lui, in cui noi viviamo di quest'amore nel docile abbandono a Lui e la sua volontà. Perché? Perché solo l'amore ci rende noi stessi. È facile capirlo, dove non ti senti amato, riconosciuto, stai sulla difensiva, non sei libero fino in fondo di aprirti, di essere te stesso, viceversa quando ti senti amato dalle persone che hai accanto ti rilassi e puoi essere te stesso. Abbassi le difese, togli le maschere, puoi tirar fuori il meglio di te. Come in natura i fiori sbocciano se li tocca la luce e il calore del sole, così noi possiamo sbocciare solo se ci sappiamo e sentiamo amati. E spesso i raggi di quest'amore ci arrivano attraverso le persone belle e significative che Dio ci ha posto e ci pone accanto. Tuttavia ogni amore umano, per quanto intenso, è sempre fragile, fallibile. Ecco, in forza del battesimo, alimentando la nostra relazione con Dio, per mezzo dei sacramenti, della preghiera, noi possiamo avere in noi la luce e il calore del sole vero, di Lui, che con il suo amore potente e costante ci libera, ci risana, ci dà la grazia di poter amare. Quanti si identificano con i loro fallimenti, sono incastrati nelle loro paure, pensano male di se stessi o di essere quello che gli altri pensano di loro, ma noi non siamo i nostri pensieri, non siamo le nostre paure, non siamo quel che gli altri dicono pensano di noi, noi siamo figli, figlie di un Padre che ci ama e dà tutto per noi. Lo Spirito Santo effonde in noi l'amore potente di Dio, che ti fa sentire figlio, non orfano, quell'amore che grida in te Abba, Padre, Papà, che ti muove alla fiducia in Lui anche nelle situazioni più dolorose della vita. E' lo Spirito Santo che ti fa professare che Gesù è il Signore e ti conduce ad essere uno con Lui, dandoti la forza di seguirlo e la grazia di imitarlo. E lo Spirito Santo ci ha detto Gesù che ci guida alla verità tutta intera, che ci aiuta a conoscere sempre meglio chi è Dio e chi siamo noi, che ci annuncia le cose future, cioè ci dà una intuizione positiva del domani alla luce della provvidenza del Padre che mai ci abbandona. Cari fratelli e sorelle, più ci lasciamo amare dal Padre, più seguiamo e imitiamo Gesù vivendo il Vangelo, più ci lasciamo condurre dallo Spirito Santo, più diventiamo davvero noi stessi. E' la comunione con la Santissima Trinità che ci aiuta a sbocciare nella verità. E, secondo punto, viviamo davvero e cresciamo nella misura in cui impariamo, sul modello delle relazioni trinitarie, ad accogliere gli altri e a donarci agli altri, vivendo relazioni sane, belle. Solo nella relazione possiamo davvero conoscerci e crescere. A volte si sente dire, se fossi da solo, se me ne stessi su una montagna, a quest'ora sarei già santo. Ma non funziona così, da soli ce la cantiamo e ce la suoniamo. Il punto è che capiamo a che punto siamo quando siamo in relazione con l'altro. Sandoroteo diceva, viene una persona, ti dice una parola pungente e ti sei rovinato la giornata. E pensi, quella persona mi ha rovinato la giornata. E continua Sandoroteo, ma è per colpa della parola di quella persona che ti sei rovinato la giornata o per la tua poca pazienza? La parola pungente ricevuta altro non ha fatto che rivelarti ciò che avevi dentro. Non solo. Noi sbocciamo nella misura in cui viviamo la nostra vocazione, la nostra chiamata ad amare. Lì è la nostra verità e la felicità nostra e degli altri. Ad esempio, se sei chiamato ad essere consacrato, consacrata, sposo, sposa, sacerdote, lì è la tua identità profonda. Io non faccio il frate, sono un frate. Una madre non fa la madre, è madre. Uno sposo non fa lo sposo, e sposo. Ecco, noi giungiamo a pienezza e facciamo crescere gli altri realizzando profondamente la nostra vocazione, ponendo atti conformi a quel ruolo che abbiamo, a quella relazione che siamo chiamati a vivere con Dio e con gli altri. C'è qui qualcosa di molto bello e molto profondo. Ora, per darci un punto concreto sul quale lavorare, guardiamo ad un aspetto dell'agire delle tre persone divine. Nel Nuovo Testamento ogni persona non tira egoisticamente a sé, ma parla dell'altra, ne parla bene, testimonia a suo favore e la valorizza. Il padre, nelle poche volte in cui ha fatto udire la sua voce, ha parlato bene di suo figlio. Gesù ci ha parlato del padre e della venuta dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci insegna a chiamare Dio papà e a invocare la venuta di Gesù. Pensate che bella una famiglia dove ognuno parla bene dell'altro, dove cerca di valorizzare l'altro, viceversa. Che guai una famiglia dove la madre parla male del padre e i figli, il padre parla male della madre, la madre dice A e il padre dice B. Mai concordi, mai uniti e così via. Pensate quanto è bella una comunità dove ci si custodisce a vicenda e si cerca di parlare bene degli altri o se non si può perlomeno si sta zitti. Pensate quanto è bello un convento così, un presbiterio così. Che bello andare da un sacerdote e sentirlo parlare bene di altri sacerdoti e non male, e non diffondere chiacchiericci e pettegolezzi. A volte è difficile, è vero, riconciliarsi, andare d'accordo, trovare un punto di incontro è faticoso. Come è faticoso camminare verso la cima di una montagna, ma quando si cammina insieme la fatica diminuisce e soprattutto quando si arriva a destinazione quella fatica. è dimenticata, davanti alla bellezza della vetta raggiunta. Cari fratelli e sorelle, la Trinità è per noi origine, sostegno, meta del nostro cammino. Siamo creati a sua immagine, chiamati a partecipare alla sua vita d'amore e a vivere secondo il suo amore. La Trinità ci rivela la nostra verità. Veniamo dall'amore e siamo fatti per amare.